Quella che sembrava una partita chiusa in maniera scontata con il PD al fianco di Roberto Mutalipassi dopo le ultime vicende si infittisce di nuovi risvolti. Prima la nota anonima della coalizione di centrosinistra, poi la discesa in campo via social di Roberto Mutalipassi, ora la dichiarazione del segretario provinciale del PD Enzo Fortunato, che annuncia una passeggiata risolutiva ad Agropoli per chiudere in maniera definitiva la querelle. Troppe notizie incontrollate, troppe voci prive di fondamento ed una situazione di caos nella quale a perderci sono prima di tutto i cittadini di Agropoli e per questa ragione, continua il segretario provinciale Dem, che nei prossimi giorni insieme all'onorevole Piero De Luca saremo ad Agropoli per incontrare tutti gli uomini e le donne del PD, per fare chiarezza e ripartire nel segno dell'unità verso una sicura vittoria della campagna elettorale. Quella che raccontano le cronache di questi giorni è in verità una frattura lacerante, tanto che lo stesso Enzo Fortunato non può ammettere che, testuale, c'è un'area abbastanza effervescente ad Agropoli perché il PD è maggioranza assoluta e tutti sanno di poter vincere. Di qui il tentativo di sborsare le polemiche. Ancora il segretario. È anche vero che c'è stata qualche incomprensione, ma il nostro compito è quello di fare chiarezza e di indicare in tempi rapidi il nome del candidato sindaco. Di conseguenza pare chiaro che ad oggi il candidato del PD non è stato ancora individuato. Mutalipassi o Coppola, Serra o Laporta. Quello che è certo è che la coalizione bulgara che abbiamo conosciuto in questi anni non esiste più. Le tante correnti e i tanti caporali pare abbiano proprio deciso di mettersi simproprio.